Azienda agricola Ciccio Zaccanini, ci troviamo a circa 300 metri sul livello del mare in collina nell'entroterra dell'Abruzzo in provincia di Pescara. La nostra azienda nasce nel 1973 dopo una lunga esperienza di produttori di uve, di mio papà, di mio nonno, abbiamo pensato di intraprendere questa nuova esperienza nel mondo del vino. Ci troviamo in una zona collinare, in un particolare microclima, questo favorisce la produzione delle uve di altissimo pregio. Di notte durante le fasi di maturazione abbiamo temperature molto basse e di giorno abbastanza alte. La ventilazione che è molto presente in questa valle ci dà la possibilità di evitare continui trattamenti alle uve. Attualmente la produzione dell'azienda Zaccanini si attesta intorno ai 3 milioni di bottiglie a anno. Per quanto riguarda la suddivisione Italia-Estero siamo all'85% in export e il 15% della produzione Italia. Le caratteristiche principali dei nostri vini, lo stile Zaccanini che si è instaurato nel tempo, è uno stile improntato alla naturalità, alla facilità di beva, uno stile di vini puliti, gradevoli, mai aggressivi che sono dalla parte del consumatore. Noi produciamo circa 25 diverse etichette suddivise equamente fra bianchi, rossi, rosati, vini spumanti e vini da dessert. No m'accordo che è stata la scelta sulla quale abbiamo puntato è un tipo di chiusura alternativa, prima sintetico, poi naturalmente adesso con il select bio andiamo verso una scelta naturale e che rappresenta il giusto equilibrio per avere delle chiusure che non diano problemi dovuti al TCA, però conservano sempre la classicità della estrazione del tappo con un cavatappi. Noma Cork è un'azienda leader nella produzione di tappi ed ha una politica di ricerca e sviluppo all'avanguardia. Abbiamo fatto diverse ricerche sulle tappature attualmente presenti sul mercato e con la ditta Noma Corko ha avuto ottimi risultati. La gestione dell'ossigeno nella produzione del vino è importantissima. L'ossigeno può essere il nemico numero uno della qualità del vino, ma può essere un fantastico alleato. I fattori che prendiamo in considerazione nella scelta delle tappature sono la salvaguardia della qualità dei nostri vini, la riproducibilità nelle varie bottiglie e la sostenibilità nelle nostre produzioni. La sostenibilità per la nostra azienda è molto importante. Già da diversi anni siamo impegnati in questo progetto. Alcuni progetti li abbiamo già realizzati come la piantumazione di 450 querce in un bosco adiacente all'azienda. Questo ci dà la possibilità di produrre ossigeno cercando di equilibrare l'emissione del CO2 durante la fermentazione. La seconda è la depurazione di tutte le acque reflue, fare in modo che le acque che vengono immesse nei canali di scolo sono acque depurate e filtrate. Il terzo progetto in fase di realizzazione è la produzione dell'energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici. Gli strumenti delle nostre politiche green sono prima di tutto la consapevolezza che questo pianeta non è nostro, ma lo dobbiamo quantomeno restituire integro alle prossime generazioni, per cui tutte le azioni tese a salvaguardare il territorio sono importantissime. L'uso anche del meno fitofarmaci possibile in vigna è anche un segnale della nostra volontà a voler essere meno impattanti possibili sul territorio. La scelta del Select Bio è stata una scelta alla quale abbiamo aderito con entusiasmo, perché avere un tappo che è fondamentalmente sintetico, ma che sia anche biodegradabile è quasi una quadratura del cerchio. Al momento abbiamo deciso di introdurlo sui vini della linea classica, ovvero i nostri classici vini con il tralcetto, bianco, cerasuolo e rosso. Lavoriamo tantissimo, in una bottiglia di vino c'è racchiuso tutto, tanto amore, tanta passione, tanta energia, tanta ricerca e non vorremmo mai che dopo tantissimi chilometri per arrivare da voi gli ultimi 45-50 mm fanno perdere tutto quello che abbiamo fatto in mesi, anni e qualche volta anche più di un anno di lavoro. Il nostro messaggio è che grazie a questa nuova innovazione che la NomarCork ha realizzato e da noi ricercata in 3, 4, 5 anni continuamente abbiamo trovato il giusto equilibrio affinché un buon vino, un ottimo vino venga preservato e conservato bene fino alla vostra tavola.